A finire nel mirino delle fiamme gialle sarebbero il direttore generale del Parco dei Divertimenti di Gardaland Danilo Santi e il direttore tecnico Francesco Alessandro Giannotta. La notizia ha scosso il colosso del divertimento in attesa di riaprire tra fine marzo e inizio aprile con tutte le novità della stagione e nuove attrazioni. Dunque a finire nel mirino dei finanzieri sarebbero i due dirigenti del Parco dei Divertimenti di Castelnuovo del Garda che risulterebbero indagati nell'ambito di un'inchiesta su un giro di fatture false e corruzione tra privati. L'inchiesta sarebbe partita da alcune denunce da parte di ditte che lavorano all'interno di Gardaland o per i Gardaland Resort, gli alberghi tematici. Un giro di corruzione che avrebbe portato anche all'emissione di false fatture per lavori o servizi effettuati nel parco. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori il fatto che i due manager possano aver fatto la cresta sugli appalti chiedendo anche alle imprese di gonfiare le fatture o di emetterne appunto di false. In alcuni casi avrebbero imposto anche il taglio degli stipendi orari dei lavoratori impiegati per poi trarne un vantaggio economico ai danni dell'azienda di proprietà del gruppo Merlin Entertainment Limited, leader in Europa dei parchi divertimenti e secondo operatore al mondo per numero di visitatori. Grazie. 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 Grazie.